ciao a tutti sono marco 88 ho scalato la testa di questo mostro ma se io sono arrivato in cima tu non ci sei riuscito ho trovato un cluster data ho usato ho usato la planata scogliattolare c'ero quasi arrivato da nazione vabbè marco come la racconti andiamo a fare una missione principale infatti allora in cariche lettura anomalia oh ma siamo super distanti a chi arriva prima sono due chilometri dov'è dov'è non lo vedo non mi da il marker e se ci arrivo io prima lo liro ma è certo che ci arrivi prima tu abbiamo gli stessi poteri e tu sei partito mezz'ora prima e hai preso anche un cluster dati sto scalando un edificio ma io sto scalando edifici anch'io ragazzi marco 88 è troppo veloce sei veloce così anche in real life certo e volo anche così ma però scopriamo dei dati nascosti della personalità sexissima di marco 88 sembrano delle pustole quei cosi le copole rosso dall'alto no mi son bugato dove i kaiser sono andato ma no ho proprio l'edificio che non si può scalare dovevo scalare ma va a farlo sei tu che ti bughi signore signore buggy man ma se prima sei bugato dentro i pantaloni di ziniac anzi dentro i pantaloni di ziniac si cioè ma dico ma che schifo ma è possibile più o meno all'altezza del del non so che cosa che deve avere in quel posto perchè c'ho una maschera di ziniac sotto di me perchè ti ha seguito da quella volta un chilometro e mezzo da me no lo so che non è un chilometro e mezzo un chilometro poco più di un chilometro ma ti sto raggiungendo a folle velocità novecento no hai ripreso sono arrivato eh io sono arrivato nightclub cosi dove? eh quanti? wow wow uh fightclub con super poteri c'è una sola regola sopravvivere ogni round di giocatori hai visto che ci sono contro gli amici sempre più forti mi ho sentito volo eh chi è quella tizia e vrei ricompensato con una battaglia contro un boss prima finisce più punti guadagni sotto a chi tocca come si usano i poteri non ricordo neanch'io con g con h o con w con g mazzetess io mi ricordavo con f però contro nightblade ma l'abbiamo appena ucciso dove è? no no dove è andato il tizio? scusi voleva arrivare da lei ma ma sono incapace ma sono incapace salve ma nooo ma sai che l'ho mancato tipo tre volte? niente non sono capace lanciato perfetto si adesso dove arriva la terza onda la seconda onda la seconda onda dov'è che sono? ah sono qua guarda qui che simpatici umoristici ma è in fiamme quel tizio utilizziamo le palle cioè queste cose sto prendendo fuoco ma si si ma non me lo fa prendere a pugni come fai a prendere a pugni se prendi fuoco devi utilizzare le palle di queste cose qua e come hai il pulsante hai scusa? non me lo ricordo più come si fa a usare poteri? Y non so come usarli ah qual'era? a posto qual'era? Q PAM come si selezionava il potere? ma no mi ha colpito prima lui pezzente guarda e prendo sta sfera ouch questo va a costruire me l'ho mancato in pratica dobbiamo colpirli con le sfere da calcio tipo io spero che il challenger sa meglio di giocare con il fire e sta rotolando via eh potere scusa ci sono delle cinesi non lo so aspetta forse devo andare su tab poteri scarica no non voglio solo equipaggiarla ho scarica? no non lo scarica cos'ho? questo è una battaglia wave 2 complet oh ce l'abbiamo fatta inizio l'arina NIGHT BLADE nooo ma tu non l'hai visto chi è questa ti... scusi no voglio un appuntamento voglio solo un appuntamento signorina dove sta andando signorina? dove? ancora oltreppure c'è non capisco un kaiser cos'è sta esplodendo questo? è NIGHT BLADE dove è andata a finire? c'è anche NIGHT BLADE? io ero più interessato da signorina ah è qua signorina ma guarda a tirare il fuoco addio signorina no dove è andata? ma peccato l'ho uccisa è un peccato ma dove è sta NIGHT BLADE? ah è qua, ciao c'è una spada laser ciao sei tu che l'hai colpito così vero? ti ha tirato giù però ma hai colpito me come hai fatto? perchè lampeggia un punto scolativo? così devo spolverarlo dalla polvere ma lampeggia? e la polvere non c'è più argento ma dai ma non so come si usano quei potere come si cambiano i potere che dannazione che dannazione ce l'ho già detto come si usano i poteri eravamo quasi a oro però come si usano si ma come si camminano no utilizzavamo lo stonk tipo lo fight club nel senso delle istanze più impegnative di fight club ok grazie ehm ok questa era la principale vabbè si ma anche quella del mom era principale se ti ricordi ma è già finita dove era quella torre che volevo scalare che era tanto carina ma adesso si è andata alla tappata della città naturalmente no non volevo il gps andiamo a fare qualcosa vicino tipo rimuovi il codice nemico non ti preoccupare tanto io sono veloce a correre corro via dove stai andando flashpoint andiamo al flashpoint seguimi sto andando al flashpoint ma non allo stesso mio forse sai a 1700 metri da qua devo sbrigarmi sono quasi arrivato dai corri 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 no ma il mio è qui di qua e da un'altra parte il mio dove sei andato a continuare la storia perché questo cosa mi sembrava tanto di schivezza cioè non ho detto niente ma qualche minchiae ma io sono al flashpoint quindi vuol dire che mi hai lasciato da solo qui al flashpoint si si scusami non avevo capito cosa stai facendo ma io ti ho detto andiamo al flashpoint quindi sto andando vabbè morirò pensavo che tu indicavi questo flashpoint no non morirai per niente sono arrivato sono arrivato vabbè le avevo uccisi tutti quasi e sono andato anche addosso agli alieni per sbaglio flashpoint liberato ci hai visto il lol adesso possiamo andare da qualche altra parte dov'è che volevi andare tu? qua una missione coop? che missione è scusa? ragazzi marco non dicevo niente credo che taglieremo un punto una missione proprio 10 minuti e 50 ti rendi conto che dato che siamo in due questa palla è doppia quindi sono due palle wow che minchia ma adesso un'altra missione nonostante nonostante mi hai fatto prendere un infarto come si chiama la pallina la giornata Tommy Timmy che gli apparsa questa porta luminosa all'improvviso infatti chi è? chi è? chi è? no 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 il nostro migliore amico è su quell'aereo Johnny Gatti va abitato fu andare insieme si è sacrificato per salvarci io ora le rivolgo indietro ah possiamo salvare un morto? non funzionano i poteri? no non funzionano i poteri? non c'è sta tipo ma c'è lei con me? ma quel cazzo era molto carino la tipa perché sono sempre sexy quelle che ci colpiscono e non quelle che stanno con noi? ma hai visto? c'è porca miseria è chiuso è chiuso la prima cosa è stato da che sia io si puoi sparare un colpo alla testa apro? si c'è qualcuno qua? no non è vero quella apro? vai ti copro le spalle Can you see the door's jammed? I don't understand Is something the matter? Bastard! Poor Johnny is on the other side of that door And you can't even muster the courage to open it He's going to die Alone And none of his friends will even get to see the body to bury him And none of his friends will even get to see the body to bury him And none of his friends will even get to see the body to bury him